Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Carli e sono pianista e compositore dell'Emilia Romagna. Quest'anno mi candido per tornare, dopo tanto tempo, a Piano City Napoli e riabbracciarvi in un concerto in cui mi propongo alcuni dei miei brani, come questo, e alcune delle mie cover più conosciute. Mi aspetto! Grazie a tutti!